bella da nick e raga bentornati su minecraft allora andiamo un attimino a letto così che la smette di piovere ah non è notte va bene allora niente pensavo già si era fatta notte ma non ci manca molto in teoria fammi dormire ti prego farmi dormire vabbè mentre che aspettiamo facciamo così allora vado un attimino a ricaricare il jetpack dunque quello che vorrei fare oggi in questo gameplay è andare di nuovo la nether devo andare a cercare un mostro particolare perché mi serve trovare un oggetto particolare quindi mo vediamo ci andiamo e voglio vedere se riesco a recuperare questo oggetto si chiama blaze rod mi pare blaze rod ok dunque andiamo un attimo a letto col cacchio va bene allora nel frattempo vado un attimo giù faccio il pieno al mio jetpack quella benzina ecco fatto ho fatto il pieno eeeh pensavo quasi che avesse finito di piovere allora fammo una cosa intanto vero mettiamo in moto di nuovo la centrale nucleare dunque mettiamo le barre d'uranio ok sta roba non mi serve la butto per ora intanto dovrebbe scomparire dopo un po' e vaffa accendiamo la centrale ok non produce molta corrente ma va bene lo stesso giusto quel poco per ricaricare un po' ne abbiamo per due ore e passa perfetto dunque vediamo se ancora no non si è fatto minimamente notte va bene allora vediamo un po' sto secchio lo tolgo mi servono un po' di frecce questo intanto stavo creando queste per per una cosa futura che devo fare quindi le frecce dov'è le frecce eccola qua ok lasciamo pure che quello crea frecce ma chi se ne frega ok vabbè andiamo nel nether va ippiii dovrei spostare il portale del nether perchè tanto ormai un po' inutilmente lontano ok quindi ragazzi devo andare a cercare quel mostro che sputa fuoco non quello che non quello grande un altro eh oh bello come va dunque andiamo nel ponte dunque stavolta me lo voglio sfruttare un po' meglio minchia devo cercare di capire sto posto quanto è grante com'è grante non si vede niente che di qua di qua c'era già passato mizzi che è enorme sto posto e non si vede un figo secco sto cercando un mostro in particolare ma eh voi l'avete visto il mostro che cerco io o no eh accidente minchia ugo ho paura che stavo per cadere nella lava comunque qua non c'è il mostro qua non c'è prima c'era poi mi ricordo che ho tolto lo spawn quella è la minchiata ok mi sa che dobbiamo andare un po' più avanti dobbiamo avanzare un po' in sto posto devo andare un po' in giro a cercare sti mostri che mi serve trovarlo che poi praticamente per andare nell'end portal chiamato lì una roba simile quindi mi serve riuscire un attimino a trovare sto mostro particolare che mi serve di qua poco mi assicuro che già c'ero passato qua là ragazzi come va? t'è a posto? io non rompere le palle tu scusate se vi ho ammazzato l'amico ma mi ha minacciato lui per prima lui ha attaccato per prima e io mi so difeso ecco un altro ponte bene sono curioso cosa c'è qua sotto eccolo è lui che cercavo ok qua mi ci vuole l'armatura no 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 fuck fuck shit eh dov'è l'armatura? eccola qua così sono protetto al cento per cento eccolo qui blaze rod è lui che mi serviva però ne lascio un altro che gli rompe il culo nasce o non nasce? facciamo così vediamo amico mio come va? vaffanculo tuve no? ok ah pezzo da merda che cazzo sei stronzo veramente va? voglio chiudere sto coso avanti in teoria adesso non ne spawnano più se mi dovesse servire in futuro so dove andare a cercarlo più o meno facciamo così gli do un nome come lo chiamo? lo chiamo blaze rod non so come si chiama il tizio quindi lo chiamo in base all'oggetto che lui ah allora te droppi lo ah te nasci lo stesso ok ho capito cazzo di merda me l'hai fatto un cazzo e ti ammazzo ok mentre che ci siamo voglio andare a dare comunque un'occhiatina qua in giro wow quello che è? ah ho fatto un culo voglio andare un'occhiata in giro dai what the fuck eh minchia mi stavo buttando di sotto convinto che avevo il jetpack no vabbè alla fine non c'è nient'altro il posto è bello comunque dai ciao compà che minchia mi guardi ah facchio alla lava minchia la lava ahia la lava ahia la lava ahia la lava meno male che non sto morendo meno male che non sto morendo un pezzo di merda cibo 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 mangiamo ma che sennò qua crepo ecco ecco è andata un'occhiata in giro ma non c'è niente di che alla fine ok c'è un'uscita ok andiamo verso l'uscita vai ok non c'è altro oi che cazzo è successo eh non riesco ad uscire non lo so come se c'era un muro invisibile ok ah what the fuck ma che cazzo dai eh andiamo verso l'uscita così l'inter... cioè quello che vorrei fare io adesso è l'occhio del tizio la come si chiama? l'occhio dell'enterman voglio creare oh shit a più di una certa altezza non riesce a volare sto cosa a più di una certa altezza non riesce a volare chi è? buongiorno buongiorno io quanti so guarda sta lava come sta messa eppa fate passà fate passà 300 metri per l'uscita oh vaffanculo alla lava ah shit meno male meno male sono ancora vivo pista 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 fate l'arg oh my god ciao bello avanti ecco qua ma torniamo a casa finalmente alla fine si è fatta notte casa dolce casa arrivo allora abbiamo finalmente trovato questi benedetti blaze rod quindi uno lo lascio qua beh qui mi sta a fare le frecce non me ne frega niente quindi quello che mi interessa adesso a me si chiama ender eh devo fare questo qui quindi non vorrei dire una cazzata ok questo quindi questo questo un occhio ok allora dunque vediamo un po' in teoria non mi serve nient'altro vado un attimino a mettere sta roba qua non mi serve più già mi basta l'occhio è più che sufficiente quindi duplichiamo sti occhi intanto che li duplica andiamo un attimo a letto così mi tolgo sto schifo di pioggia dalle orecchie andiamo anche a caricare un attimino il jetpack ecco con la luce del sole si ricarica anche la batteria siamo quasi fatto ah magnifico allora vediamo un pochino come stiamo messi qui con la cosa ce n'è solo uno ok a posto quindi se non dico una cazzata quello che bisogna fare adesso è quello che io devo fare adesso è prendere uno di questi occhi a quanto ne so ed usarlo eccolo lo devo seguire beh? beh? non ho capito dov'è? è qua sotto il portale sotto casa mia? minchia è tutta sta fatica per poi alla fine sapere che è qua sotto? c'è una roba da matti io pensavo era lontano adesso mi porta a venti chilometri no il portale è qua sotto ok magari c'è qualche buco già pronto per andare sotto terra io non ho scavato sotto casa mia no quindi ovviamente non ne so niente non ne so niente ma il portale è qua sotto ok non fa rumore ma è lo stesso non so perché non non si sente il rumore del laser sarà un bug la pistola laser mostra la sua utilità in questi in questi momenti allora signore occhio te mi hai detto che qui sotto c'è il portale adesso mi devi dire dove minchiata quanta roba che ho trovato allora vediamo un po dunque buttiamo un altro occhio dove minchiata è andato? ho perso l'ho perso ok non lo so l'occhio ha detto più o meno ha detto l'occhio qua sotto vediamo se riusciamo a trovarlo sul benetto portale ho bisogno di qualche altro un po' di torce ok continuiamo a scavare sperando che il laser mi basta a caltezza siamo 23 dice che è qua sotto non trovo un cazzo non trovo niente aspetta cosa c'è qua niente ho quasi finito il laser niente ho quasi finito il laser ho finito il laser non l'ho finito ok ho finito il laser e praticamente dovrei per forza di cose tornare su vediamo vediamo butto un altro occhio vediamo se più o meno mi da l'idea di dove lo devo dove cazzo è andato bella domanda dove sarà andato sto occhio stupido non lo vedo mica ma quello non è l'occhio boh non si sa dove è andato purtroppo ma so soltanto che dovrei trovare all'incirca qualcosa qui sotto ma torniamo su andiamo a ricaricare il nostro la nostra pistola laser vediamo la butto un altro dove vai se mi hai preso per il culo t'ammazzo ok boh l'occhio dice che insomma praticamente l'occhio per chi non lo sapesse indica il posto in cui dovrei trovare il portale che mi porta poi nel ender dove c'è il drago credo non vorrei dare una cazzata ma non ci sono mai andato dove cazzo sto andando allora mo famo così perché vedo che di occhi ne consumo oltretutto allora mi interessa ricaricare questo poi vediamo c'ho un mucchio di roba che dovrei buttare quindi famo così occhio ma l'occhio per esempio è finocchio questo lo togliamo questo lo togliamo questo lo togliamo tutta sta roba in più la togliamo che non mi serve questo lo togliamo pure ma che me ne faccio questo ce l'ho già non mi serve è a posto beh mi porto un po' di occhi di scorta non vorrei che magari uno non ci dovesse vedere no? chi ha quanto ci vuole per caricarlo? e che ha fatto? è utile no? cioè è molto utile si anche la TNT potrebbe tornarmi utile ma adesso mi sa che... chissà se ne ho messo da parte qualcuna eccola qua aha questo è sì che è utile mi serve anche un detonatore 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 che me porto? detonatore eccoli qua questo questo non mi serve lo lascio qua via via me ne faccio niente ok laser ok torniamo giù vediamo se riusciamo a trovare sto benetto portale pistola frutta larga aia mi spezzo le gambe proprio ok c'è la TNT mo faccio una strage me ne ho fatto un cazzo adesso vi faccio vedere che cosa nicchie combina pur di trovare sto benetto portale mi dovrò togliere dalle palle molto molto velocemente mo devo stare veramente attento a dove mi smuovo ok già possiamo fare la prova minchia minchia vai via 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 via! tutto qua? pensavo succedeva qualcosa di piu Cioè, è pur vero che rischio anche di distruggere il portale se lo trovo, però, con la dinamite. Ma cazzo è sto posto? MINGA, dov'è il portale? Dai! Eeeh, occhio scemo! Che cazzo? Una bella domanda. Se ne va e non mi fa capire dove. Ragazzi, sinceramente, sto portale mi sa che sarà una faticaccia a trovarlo. Non pensavo era così difficile. Ho anche spaccato sotto casa, non dico quanto, così... Eeeh, questo è bedrock. Che parte deve pure essere sto benedetto portale? Eeeh! Non lo trovo. Chissà dov'è. Non sapendo la direzione, cioè... Proviamo un po'... Ho anche un po' di dinamite. Nada, eh? Nada, de nada, non si trova il portale. Quell'occhio scemo mi ha fatto spaccare sotto casa, non dico quanto... E alla fine non si riesce a capire... L'esatta ubicazione di sto coso. Potrebbe anche essere più in alto, eh, ovviamente. Non è detto che sia così in basso, ovviamente. Ovviamente. Potrebbe anche essere più in alto. All'altro, l'occhio non è che ti dà l'esatta ubicazione, anche giù, su... Ho esaurito anche qui la corrente... Eh, sì, la corrente. Non sono rimasto incastrato. Minchia, vai via, vai via, vai via, via. Niente, qua non c'è niente. E neanche qua c'è niente. C'è ancora un po' di dinamite. Ancora un po' di dinamite ce l'ho. Posso anche provare... Posso ancora provare a cercarlo qui da qualche parte. C'è ancora un po' di dinamite da usare. Vediamo. Niente da niente, raga. Quell'occhio scemo. Mi ha fatto scavare qua sotto, ma... Non si sa... Non si sa minimamente il punto esatto, però. E quindi è un bel problema, ecco. Ok. Ok, diciamo che non è ok. Bella questa, è pure notte, che figata. Guarda, tra un attimo vado a ricaricare il solito laser. Prima o poi dovrò pur trovarlo, sto benedetto coso. Allora, togliamo tutta sta roba che non mi serve. A dinamite, sì, è buona. Anzi, un po' di cobblestone, ma la devo poi lasciare. A dinamite me la prendo. Dunque. Che altro? Ho bisogno di un po' di legna. No, non ho legna. Ah, no, eccola qua. Manco, un pezzo di legna qua. Ogni volta è un casino. Ecco, lo metto qua. Ok, questo ce l'ho. Un altro po' di dinamite. Andiamo un attimo a dormire, fa giorno. Vediamo, altri cinque minuti, cerco di trovare sto posto e poi eventualmente lascio perdere. E ci proverò, ci proveremo un'altra volta a cercarlo. Dunque. Dunque, dunque, dunque. Vediamo il laser come sta messo. Eccolo qua. Voglio fare una prova, perché adesso non so più convinto. Cioè, quello mi ha fatto scavare così tanto, ma io devo fare sta prova. Sì, alleluia. Che può essere anche qua sotto, quindi vado a capire, mo, dov'è il punto esatto. Mh, bello è questo. Famo così. Voglio farla proprio esagerata. Cioè, o l'occhio mi piglia per il culo. Dov'è? Nooo. Un momento, raga, io sapevo che l'occhio in teoria mi doveva indicare la strada. Sì, vabbè. Cioè, io sapevo che l'occhio indicava la strada dove dovevo scavare, ma a sto punto ho scavato per niente. Mi sento un po' preso per i fondelli, sinceramente. Cioè, io la sapevo così. Uno butta l'occhio e lui in teoria doveva dire dove... Ecco, di fatto. Ah! Ecco. Questa mia è nuova. Si è spaccato. Si è rotto. E quindi questo che cacchio vuol dire? Bella domanda. Boh, dato che so qua scavo qua. Che me frega, ormai che so qui. Tanto. E forse qua è più ovvio, perché già qui sento mostri, quindi può essere che qua è il posto giusto. Che va fa' un culo! Eh, minchia, non avvisami! No! Addio, buono. Ma male che c'è l'armatura buona. Mienchia! Si, vabbè. Già qui mi sembra un po' più naturale, effettivamente, perché... Voglio dire... Già qua qualche mostro c'è. Mi sembrava strano che potesse essere là. D'altronde lì non c'era un ca... Non c'era un cazzo. Qua invece qualcosa c'è. Beh, ora sì che ci capiamo. Qui effettivamente il portale c'è. Eh sì, certo, che deve essere per forza qua. Inchiamatura, che roba. Beh, meglio tardi che mai, no? Ma la fa' un culo! Non mi piace neanche un po'. Che scemo. Ok, allora. Beh, ora viene il bello. Riuscire effettivamente a trovare sto posto. Riuscire a trovare questo portale, no? Può essere ovunque. E qua non c'è. Oh, è andato a fa' un culo. E che è un vizio. Qua non è. Ma com'è che si derrompi palle? Niente, sto portale non lo trovo. Ma comunque sicuramente deve essere qui da qualche parte. Ho anche finito le cacchio delle torce. Sto cacchio di cosa lo togliamo. Quindi sono rimasto praticamente 15 minuti là sotto a scavare per niente. Convinto che l'occhio indicava il punto giusto, invece non era così. E baffa. Però a meno questo significa che l'occhio effettivamente non mi ha portato da nessuna parte. Pensavo che l'occhio mi avrebbe portato nel punto giusto. Chi è? Minchia! Sembrava un mostro, ho detto cos'è sto coso verde? E cosa state facendo lì sotto, brutti i porcelloni? Certo, il posto non è che sia piccolo, ma... Minchia. EW! Che fai lì? Ma chi è che a me tira le frecciane? Ma se te... E' culo che la metto sta cazzo di freccia, stronza. Ah, va con un culo. Allora, prendiamo st'occhio. Lo butto. E se ne va. Se ne va senza dirmi niente. Vediamo cosa c'è qua. Si può dire che ho dato una buona esploratina un po' ovunque. Non c'è un bel niente. Non c'è un bel niente. Niente di niente. Dov'è sto benetto portale? Ahà! E che palla andate via. Minchia un altro. Non mi cago mica di voi. Avanti. Siente va. Vediamo un pochino di cominciare a far sul serio. Toglietevi che qua è zona pericolosa. Zona di scavi ragazzi. Zona di scavi. Addirittura il botto... Ah già, questo è il botto. L'ho fatto l'altro. Ma insomma, dove cacchio è sto posto? Ah, mi sono scocciato. Dove è il tuo portale? Vallo a trovare. Insomma, si può sapere che volete tutti quanti da me? Lasciamo un piccolo segno. Niente, comunque la situazione raga è che sto posto non lo trovo. Ciao, bello! Questo posto ragazzi purtroppo non lo trovo. Quindi direi che per il momento posso anche concludere questo gameplay. E poi eventualmente se lo trovo vi faccio sapere. Quindi direi che possiamo concludere ragazzi, ahimè. Ma se tutto va bene nel prossimo gameplay cercheremo di entrare effettivamente in questo benedetto Ender Portal o come cavolo si chiama. Lo cercherò comunque, dai lo cercherò. Quindi ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Commentate come sempre, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Se volete mettere un mi piace al video, come volete voi, come sempre. E nient'altro, vai. Va bene? Quindi raga, io vi saluto. Statevi bene. Ciao, alla prossima!